Siamo qui a Lagaccio per parlare con le persone. Abbiamo già avuto in poche ore più di un migliaio di consensi, consensi a parlare con il sindaco. Lunedì 9 febbraio, qua dove lei vuole costruire una moschea per ascoltare la gente, che cosa vuole veramente. Qui le persone si lamentano, dicono che il sindaco in campagna elettorale ha promesso addirittura la piscina. Gli arancioni hanno ripreso i loro colori, che avevano un attimo messo da parte. Siamo sempre nel PDL, ma col colore arancione, perché la differenza è parlare con le persone. E' questo che noi desideriamo.